Siamo la Fratelli Mariani S.P.A. di Cormano, un'azienda nata nel 1929 con la peculiarità di produrre due prodotti, lamiere stirate e tessuti metallici, utilizzati nel settore dell'industria per la filtrazione e nel settore dell'architettura. Siamo al BAU ormai alla seconda edizione e quest'anno presentiamo prodotti nuovi come finiture e come tipologie di maglie. Alle mie spalle potete trovare una maglia standard chiamata Maracanà con una finitura color oro elettrolucidato su acciaio inox e presentiamo anche una nuova maglia chiamata No Limits 500, attualmente la maglia più grande sul mercato per quanto riguarda lamiere stirate. Siamo l'unica azienda in Europa a produrre anche tessuti metallici con finiture nuove e prodotti nuovi come il rame, l'ottone, il bronzo e l'acciaio inox con diverse tipologie di gradazione. I prodotti che presentiamo sono specialmente utilizzati per settore architettura come facciate, controsoffitti, balconi e anche applicazioni di interni. Per quanto riguarda le applicazioni di esterni, quindi le facciate diamo massimo valore alla qualità, quindi tutte le finiture sono garantite per almeno 20 anni con testi nebbia salina da nostra cura, con i nostri fornitori di finiture che possono essere le anodizzazioni, le verniciature con ogni tipologia di colore e ogni tipologia di qualità. La nostra azienda sta spingendo sempre di più nel settore architettura e industria, soprattutto come export. Siamo un'azienda che exporta ormai per il 70% del proprio prodotto e fatturato in tutto il mondo, a partire dal Sud America a tutta l'Europa, all'Africa, al Medio Oriente e anche in Estremo Oriente. La nostra azienda ha come core business l'industria, ovvero il settore della filtrazione. Lavoriamo nel settore dell'automotive, nella filtrazione aria, olio e ovunque ci sia la necessità di filtrare, e noi abbiamo la possibilità di proporre i nostri prodotti, ovvero la lamina stirata e il tessuto metallico. E questo è il nostro valore aggiunto. Il nostro motto è The One Place for Mesh.